ciao a tutti oggi andiamo a analizzare il video di un volo fatto qualche giorno fa durante una missione su combat box in questo momento sto volando con cesare come mio gregario e siamo a 7000 metri di quota in territorio nemico quando riceviamo una chiamata da srs che ci informa che ci sono due contatti nemici a mille metri a una ventina di chilometri da noi ci dirigiamo immediatamente verso quella zona e decido di scendere un pochettino quindi di ridurre la nostra quota a 5000 metri questo perché non voglio avere un'eccessiva differenza di quota tra noi e il nemico perché comporterebbe poi una piccata troppo veloce con tutta una serie di rischi di rompere l'aereo sbagliare la traiettoria ma anche semplicemente aumenta la difficoltà poi di colpire l'aereo nemico in quanto la mia velocità di chiusura verso di lui la mia velocità di avvicinamento diventa troppo alta quindi poi ho poco tempo per prendere la mira vedremo infatti poi cosa succederà durante l'ingaggio dopo poco ha visto finalmente i due contatti non appena il mio gregario mi conferma che visola anche lui gli ordino di attaccare il primo quello più vicino a noi mentre io andrò a prendere il secondo eccoli qua visti ore 1 sul fiumiciatolino sono due stanno passando sotto di noi non so se sono insieme o se sono in combattimento allora picchia sul primo quello che fuma nero io vado sul secondo in questo modo riusciremo a portare l'attacco contemporaneamente quindi scenderemo sul bersaglio nello stesso momento cosa che non saremmo riusciti a fare se avessimo fatto il contrario infatti il mio compagno avrebbe dovuto compiere molta più strada per poter attaccare l'aereo più lontano e questo avrebbe comportato due attacchi separati invece che un attacco singolo nello stesso istante non appena comincio la picchiata mi viene il dubbio che il primo contatto sia in realtà un 190 dal fumo del motore però srs ci aveva segnalato due contatti nemici proprio in quella zona quindi ho pensato potesse essere anche un p51 in ogni caso però ormai eravamo pronti a scendere ed era troppo tardi per ritirare l'ordine al mio compagno come potete vedere però la differenza di quota è ancora estremamente elevata quindi durante la picchiata sarò costretto a interrompere la manovra per cercare di cambiare traiettoria e evitare di arrivare giù a una velocità eccessivamente alta sto rischiando seriamente di danneggiare l'aereo e questo appunto un errore di partenza perché siamo partiti da una quota troppo alta rispetto all'emico e già a una velocità troppo sostenuta avremmo dovuto rallentare un pochettino prima di cominciare la picchiata visto che sono così veloce mi avvicino all'aereo nemico troppo rapidamente diventa difficile per cui poi riuscire a centrarlo perfettamente sul mirino e infatti il primo tiro per quanto riesca a danneggiarlo non è sufficiente per abbatterlo proprio mentre sparo il mio compagno mi dà conferma che il primo aereo avvistato era in realtà un aereo tedesco un 190 ok quello davanti è un dora ok colpito lo speed sempre per via dell'eccessiva velocità con cui ho portato l'attacco sono costretto a cabrare sopra l'aereo nemico per evitare di superarlo passandoli davanti al muso offrendoli quindi l'opportunità di spararmi a questo punto mi trovo a prendere una decisione importante la prima idea era quella di continuare la risalita e allontanarmi insieme al mio gregario per poter riformare e controllare che nessuno altro aereo nemico si stesse avvicinando a noi non visto ma da come manovra lo speed fire sotto di me capisco che in realtà sta seguendo proprio cesare e a quel punto decido di compiere una manovra più aggressiva per riprendere immediatamente l'attacco per cui mi ribalto su di lui e mi riposiziono a ore 6 rientro su di lui eravamo alle 2 6 a questo punto la nostra differenza di velocità si è ridotta per cui ho più tempo per poter avvicinarmi a lui sbaglio il primo tiro ma col secondo tiro poi riesco a mandare l'aereo in fiamme non appena concluso il combattimento fornisco al mio compagno prua e quota di uscita per poterci allontanare dalla zona d'ingaggio riformare la coppia e controllare che nessuno ci stia seguendo non appena li fornisco questi dati però mi accorgo che in realtà lui è picchiato proprio nella direzione opposta per cui vado a modificare la prua d'uscita per rendere più agevole il ricongiungimento tra noi due allora prua 90 2000 metti tu mi hai picchiato sopra si ti ho picchiato sopra allora prua nord metto così riformiamo a questo punto che avendo tempo di guardarsi intorno cesare si accorge che gli manca un alettone probabilmente l'ha perso durante la prima picchiata perché ha raggiunto una velocità troppo alta c'è uno dietro no non ho un alettone ritorniamo quindi all'errore di partenza vale a dire cominciare un attacco da troppo alti e con troppa velocità che ha comportato tutta una serie di conseguenze il mio gregari ha danneggiato l'aereo perdendo un alettone e io sono stato costretto a compiere due attacchi perché il primo è stato troppo veloce e non ho avuto il tempo per prendere la mira correttamente per cui la prossima volta dovrò ricordarmi che nel momento in cui la differenza di quota tra me e il mio bersaglio è superiore ai 3000 metri dovrò rallentare ulteriormente per evitare di arrivare al momento dell'attacco con una velocità troppo alta che è stato costretto a compagno di potenza 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 di Grazie.